Cinque, quattro, tre, due, uno, guardate, è iniziale, ascoltateli in campo. La vedo va a pesce la sua, vediamo di metterlo in piedi. Il vostro angelo fosse... No, no, no! Mi carico, ti ha salvato! No! Ti ha fatto male! Come on! Sì, 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 sì. Grazie a tutti. E vai! Gli eroi non muoiono mai. Un brucio, vero? Qui c'è una torretta nemica. Ora ti vedo. Torretta nemica di... La morte non può fermare l'eroe. Torretta del capo calizzato. Non è la... Nessuno sfugge al mio sguardo. Torretta nemica offline. Il carico ha raggiunto il G-Pod. Tale madre, tale femmina. Sono indaprestata. Mi servono cune. Torretta nemica. Torretta nemica localizzata. Torretta nemica distrutta. Fai guarda. Vip. Bersaglio centrato. Consiglio di ricortarsi. Cera quella mia maniera. parfè. Sì, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Torretta nemica avvistata. Torretta nemica distrutta. Torretta nemica distrutta. Torretta nemica abbattuta. Torretta nemica distrutta. Riproviamo! Nessuno sfugge Torretta nemica, laggiù Gli eroi non muoiono mai Torretta nemica individuata Torretta nemica abba Rendetevi utili, spostate il carico Attenzione a dove metti i piedi Qui c'è una torretta nemica La morte non può fermare gli eroi La torretta nemica è a fine cosa Il vostro angelo custode ha rinato Non ne hanno bastato Stracciato piano Tempo scaduto Riproviamo Torretta nemica distrutta Torretta nemica individuata Il mio regalo percibano Nessuno sfugge Non è spostato Vediamo il carico Verso la destinazione Torretta nemica Radurarsi per l'attacco speciale Corretta nemica La corretta nemica è appena esploda Azione migliore della partita Azione migliore della partita Poi Corretta non Sassate Corretta non Corretta non Corretta non